C'è un piacere questo crop circle e siamo dentro, siamo il primo qui perché non è ancora aperto al pubblico quindi siamo a Fenwarti, le città di città, è incredibile, c'è una bella piazza con un po' di pia e di muscoli, stiamo iniziamo ora, il circolo qui non ci sono fatti, non perché sono cortati, ma perché non crescono perché qui nel medio c'è particolare energia siamo fatti di musica e energia e noi danziamo e noi danziamo e noi danziamo e noi abbiamo trovato 2 porcini, 3 porcini e noi stiamo non troppo perché il sole non è più grande e il sole è molto peggio e magari ci sono alcuni bambini o i bambini che non voglio essere in troppo in danger quindi vediamo ciao iscrivetevi al canale e guardate le prossime avventure ciao ciao San Warty Lake bellissima riserva naturale una delle più suggestive e selvagge che abbia visitato finora in Inghilterra un po' più il figlio in l'area non cresce, c'è solo grass, e come puoi vedere i pini non crescono, si crescono uno qui e l'altro, ma non crescono, quindi magari è per i sensi di energia che sono qui e il sentimento di essere dentro, nel medio, è rilassante, rilassante, so subscribe, continue to follow the channel, and to see what's next in the next adventures, ciao guys! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!